Terzo pareggio consecutivo per la Turris che non va oltre l'1-1 interno contro il Picerno. Gli ospiti partono subito forte con la conclusione di Sartar Cangelo che trova la respinta di Perina. Bisogna attendere più di 20 minuti per la risposta dei Corallini, con Maniero che tenta il colpo da metà campo, l'estremo Lucano Albertazzi però non si fa sorprendere. Ci riprova il Picerno con Guerra che calcia a lato e dall'altra parte ancora Maniero a tu per tu col portiere in sacca ma da posizione di fuorigioco. Nella ripresa la Turris ad attaccare da subito con Franco che dal limite non trova la porta e poi con Contessa che invece si vede deviare in angolo la sua conclusione. A 72esimo Perina salva il risultato sul tiro ravvicinato di Golfo ma nulla può poco dopo sul diagonale dello stesso Golfo e ospiti in vantaggio. Il finale tutto rimarca Corallina, ancora Maniero centra la traversa praticamente dalla linea di porta e all'ultimo minuto è il neo entrato Leonetti da centro area a trovare il varco giusto per anticipare il portiere e mettere in rete il pallone del pareggio. Nel recupero c'è addirittura l'occasione per portare a casa la vittoria ma Franco calcia alto la punizione. La Turris così non si schioda dalla zona play-out e domenica prossima ospiterà il Giuliano.